Delta al ponte Angar, unità KR, c'è qualcuno laggiù? Dobbiamo far decollare qua i Raven! Delta qui KR-03, il mio elicottero è stato attaccato, l'equipaggio è morto, mi serve aiuto. Tieni duro, stiamo arrivando! Merdo, sentite, sembrano altri fori! Merdo, sono delle condutture! Fateli fuori, c'è un pilota che si aspetta! Attacchi! Rescot, sei ancora lì? Non sono ancora morto, se è questo che vuoi sapere. Sergente. Giusto per sapere. Non vorrei rischiare di perderti di nuovo. Ci siamo quasi! La siamo vista brutta qua giù, Fenix. Abbiamo perso molti uomini. Le due Raven non possono ancora decollare. Ok, ne occupiamo noi. Sì. 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 Forza, portiamo l'elicottero fuori di qui! L'ufficiale del volto è morto, non possiamo azionare l'ascensore. Pensa a far decollare quel Raven. Ci occupiamo noi dell'ascensore. Piccolo ritardo, Zero-Uno. Prima dobbiamo eliminare i tuoi mostri. Inutile! Resto alla gabbina di comando. Sì. Va bene lo stesso. E uno. Ne resta un altro. KL-03, siete pronti al decollo? Sono bloccato nella zona 3. Mi servirebbe una mano. Tieni duro, stiamo arrivando. Tremata, occhio! Andiamocene, daremo il vostro nuovo equipaggio. Ottimo, azionate l'ascensore non appena accendo i motori. Sì. Porca putta! Che diavolo è? Non è una storia. Attenti! Sta tornando! È un po' tuttissimo leviatano! Manta gente! Siamoci da fare! Oh, cazzo! Ma come segnala? Siamoci di rilassare! Non ci provare! Mandiamo al Creatore quel mostro versazzo prima di subire altre perdite. Troviamo i comandi dell'ascensore! All'ascensore. All'ascensore sull'ascensore! C'è puzza di fumo Pronti per l'evacuazione Tutto il personale non essenziale si recchi subito alle sceluppe di salvataggio Ripeto, pronti all'evacuazione Non mi piace per niente In volta in piappe, dobbiamo spegnere l'incendio Non si paga per chi non c'è curate Trovate una valvola e attivate le botte E una, dobbiamo aprirne altre due Splendente Attenzione, altri spettanti sul ponte Non può combattere Falta solo una Ehi, fuori di là! Quei tempi a tui esploderanno! Cazzo! Non ha colto il suggerimento Non! No! Repisto! Non! ... State tutti bene? Deve essere la sala macchina. È un miracolo che siamo ancora vivi. Marcus! Accidenti, che razza di mostro orribile! Cole, la vedi questa merda? Baby, abbiamo i posti in prima fila. Stiamo attraversando il ponte sopra la nave. Riesci a uccidere quella cosa? Da dove sei? Beh, da un punto di vista puramente scientifico. Credo che dovremmo fargli saltare le cervella. Via, Baird, di inventarsi qualcosa. Presto, dobbiamo tornare al ponte di volo. Tutte le scialuppe lanciate! Ripeto, tutte le scialuppe lanciate! Occhio! Attenzione! Stai portando il ponte! Ripeto, spavano! Dammit! Ripete! Ripeto, stai portando! Ripeto, spavano! Ripeto, spavano! Ripeto! Capito! Capito! Sapete! Capito! Capito! Attenzione, salta a loro! Attivate il tronco. Attenzione, salta a loro! Attenzione, salta a loro! Marcus, mentre voi facevate una pausa, il genietto biondo ha avuto un'idea. Se attirate quella bestia poppa, si becca un bel mal di testa. Gli animali mi adorano. Resta in attesa, Cole. Servi a uno sprone più grosso. Usiamo i due silverback nella zona di manutenzione. Marcus, corri! Quella cosa si schiaccherà! Ok, due silverback sono in quell'area. Apriamo le porte! Ma che schiavolo! È ora di fare casino! Oh mio Dio! È tornato! Pazzatelo via dalla nave! Fuoco a volontà! Allora! Gli animali! Buongiorno! Oh mio Dio! Che schifo! Buongiorno! Guiranno le due sbagliate. Dove andate? Si è arreso Probabilmente sta recuperando le forze Attenzione, mutalo Tu scordi d'arrivo Dove andate? 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 Se non volete finire in quella brodaglia luminosa No Dove andate? Dove andate? Ehi! Mi pensavo che avresti abbracciato una dose di sana violenza verminosa. Sì, è davvero divertente! Così farai esplodere tutta la nave, genio! Saltate! Presto!